e alla fine la vespa è stata dura fabbri no andre la squadra aveva anche il pubblico da lori lori che ha tirato su tutto il motore quindi e l'altro andre che era sulla scala di dietro fede ti piace la vespa pesa la faccia bea cosa dici è un'ottima idea tutti pensano che un'ottima idea e ovviamente il tocco finale l'adesivo hk vai andre è storto comunque andre vota va in su no 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 non toglierlo che si rovina ma sì che non succede niente vediamo l'effetto dal fuori vediamo spaziale